Scuola, sindacati Sicilia, Settim di protesta martedì 23 novembre. Un Settim di protesta si terrà martedì 23 novembre a Palermo, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale in via Fattori. L'iniziativa è promossa dalle segreterie regionali di FLCCGL, Will Scuola RUA, SNALS, COMSAL e GILDA UNAMS. Le organizzazioni sindacali chiedono al Governo rinnovo contrattuale risorse per stipendi in linea con quelli europei, più investimenti per la scuola pubblica, stabilizzazione dei precari e incremento degli organici, cancellazione di ogni forma di vincolo nella mobilità, proroga, contratti Covid al personale ATA, valorizzazione della professionalità docente, revisione e valorizzazione dei profili professionali del personale ATA, estensione della carta docente al personale precario e ATA, progressione professionale ATA e stabilizzazione assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.